Mi sento molto molto stanco, contento ovviamente, però insomma una settimana prima a Milano con le gare a casa, l'ho sentito a livello emotivo e ora qui riuscire un'altra settimana di fila, mantenere un po' di energia è stato difficile, meno male ho fatto quella sosta a terra, mi sono riposato un po' al fine settimana, ad aria mi sono divertito, qua oggi è stato un po' a cercare di finire. Ora ci riposiamo una settimana perché un po' di energia sono da recuperare, poi c'è dei training camp con degli amici, uno è Bakken che era in finale o in Emania, quindi mi girerò un po' in Europa, qualche piccola garetta per tenersi in esercizio di gare, ma cercare solo di curare la tecnica. Andare alle Olimpiadi, certo mi sento bene, vengo da una stagione con tanti successi, al fare delle medaglie di per sé, credo di essere stato fortunato a poter tirare così tante finali, perché ai finali non si impara mai fino in fondo e quindi tanto esercizio è buono, ho degli ottimi ricordi da portarmi dietro se andrò in finale all'Olimpiadi e degli ultimi colpi buoni e quindi sono positivo, ovviamente ci sarà da gestire un po' di aspettative però so cosa fare e cerco di farla al meglio. Amici a casa, io sono contento di tornare a casa perché è stata una preparazione olimpica molto lunga, ho fatto questi quattro mesi in Colorado Springs, poi Londra, poi ancora America, poi Milano, Monaco, non mi sono fermato ancora per bene a casa, quindi sono contento di tornare ovviamente, un saluto a tutti.